ciao a tutti ragazzi è come il novesimo video di boosters oggi vi farò vedere lo shop allora ci sono un po' di effetti della natura un po bellino riscattiamo le cose che ragazzi questo qua è lo shop del spettatore che guardo 18 scusate il mio id è 2 r l q u c g c 0 2 ragazzi iscrivetevi al canale lasciate un bel like quando vedete il video a tutti i vostri amici e ci vediamo al prossimo video ciao